Ciao a tutti, sono Massimo Tartarini, Presidente di Italjet, una firma fondata da mio padre da 1959. Sono orgoglioso di essere qui oggi, perché siamo pronti con il nuovo Dragster. Io sono molto orgoglioso di essere qui oggi, perché in questa vetrina internazionale diamo il via alla produzione del nuovo Dragster. Italjet è una compagnia italiana e il suo DNA nasce dalla esperienza e dalla capacità di creare motociclette al di fuori della normalità. Noi siamo Italjet e abbiamo sempre in nostro DNA la capacità di creare nuovi motociclette e nuovi concepti full di tecnologie. Italjet è una compagnia creata da mio padre in 1969. L'anno scorso abbiamo presentato il modello Dragster, che era solo un concept, perché non era un modello ancora pronto per la produzione. Oggi siamo orgogliosi di presentare il Dragster, già definitivo, pronto per la produzione. Italjet è un'azienda di creazione completamente italiana. È una delle poche, direi che siamo solo in due, oggi aziende italiane, a continuare la tradizione della famiglia. Ciò vuol dire che il marchio Italjet è una delle stesse mani di fondatore. Questo è un progetto per me di dire che Italjet, insieme a un'altra compagnia italiana, è l'unica compagnia nel mercato che ha la stessa proprietà dei fondamenti. Perché mio padre ha creato la compagnia nel 1959, sono la seconda generazione e sono orgoglioso di essere qui con voi, di condividere con voi le emozioni che abbiamo dato per creare questa nuova biciclette. Italjet ha lanciato nel 1995 il Dragster, un modello completamente innovativo, disegnato da mio padre, che ha scombussolato un po' il mercato internazionale del concetto di scuola. Allora avevamo creato un veicolo che era al di fuori di ogni aspettativa, un telaio a tradizzo creato per i veri motociclisti. In 1995, mio padre ha creato l'ultimo Dragster che è qui, vicino a noi, e ha creato questa motocicletta in order per dare al biker l'excitante motocicletta per i motocicletti. E siamo orgogliosi oggi per introdurre il nuovo concetto del Dragster 2020. Ora, Italjet è pronto per essere in massacrazione, quindi vogliamo lanciare in tutto il mondo il nostro prodotto, e crediamo che abbiamo creato la più sportiva motocicletta in mondo. Questo significa che abbiamo fatto molta difficoltà di chiamare questo solo scuola, perché, credo a me, non è un scuola, è una reale motocicletta. Quindi abbiamo creato questa motocicletta per pensare a dare al massimo passion al nostro design e al nostro consumatore. Italjet Dragster ha avuto molto divertente all'interno del mondo, e ha sempre stato in contatto con me, e mi spaventato a fare la nuova versione del Dragster. Finalmente, oggi, il nuovo Dragster è raiato per la massacrazione, e siamo molto orgogliosi di avere un Dragster in il nostro paese. Il Dragster sarà fatto completamente in Italia, e sarà venduto in tutto il mondo. Abbiamo una domanda in ogni paese. Il Dragster siamo orgogliosi di annunciare che è un prodotto italiano, verrà prodotto nel nostro stabilimento in Italia, e siamo orgogliosi che rappresenti a livello di creatività il design italiano. Tanti ci hanno paragonato ai marchi più all'avanguardia nel design e nella sportività, e noi siamo molto orgogliosi di avere un prodotto così tecnologico, e che fa parlare di sé in tutto il mondo. Dragster è stato studiato non pensando all'economia, ma pensando alle emozioni, perché chi guiderà un Dragster sarà orgoglioso di guidare un veicolo che non ha uguali nel mercato. Dragster è stato studiato per dare un passione al consumatore e al driver, perché chi potrà guidare un Dragster, sarà orgoglioso di essere in un'unica motocicola in il mondo. Quindi, grazie a tutti per il vostro venire, e voglio introdurre a voi il mio chief ingegnere, George Barbosa, che vi darà tutte le informazioni sulle tecnologie del Dragster. Quindi, sono molto orgoglioso di presentarvi il nostro capo ingegnere, George Barbosa, che vi illustrerà tutte le parti e le tecnologie che sono sviluppate sul Dragster. George! Buonasera a tutti, benvenuti. Io sono George Barbosa, sono stato il project manager di questo Dragster, e vi parlerò delle principali caratteristiche tecniche. Buonasera, benvenuti. Mi chiamo George Barbosa, sono il project manager di questo Dragster. e mi raccomando un po' di più le valore tecniche di questo prodotto. Una delle particolarità di questo modello è, indubbiamente, il telaio a traliccio. Qua parliamo di un accello di alta resistenza abbinato a delle piastre in alluminio che con questo abbinamento riusciamo a mantenere un peso contenuto della serie. Una delle cose speciali di questo modello è, senza dubbio, il trellis frame. Stiamo parlando di un frame di stile di stile, combinato con un strutturale aluminio e un grado di alto, per cui possiamo mantenere un livello più alto. Poi, guardando l'avantetrenno, una delle caratteristiche principali è il monobraccio e un barro forcelone anteriore. Questo è stato rivisitato, è un prodotto brevetato internamente, è stato rivisitato dal nostro ingegnere. E con questo sistema, noi chiamiamo SIS, abbiamo un'azione sterzante, indipendente dell'azione ammortizzante. E con questo riusciamo a filtrare alcune vibrazioni al pilota, ma allo stesso tempo assicurare la massima performance e sicurezza, e principalmente la sensazione di guida. Quindi, in fronte del dragster abbiamo l'indipendente di stile, che si chiamano l'Italian SIS. L'Italian SIS. L'Italian SIS. L'Italian SIS. L'Italian SIS. L'Italian SIS. Inoltre, seguiamo il perfetto del carro, senza l'antidivazione e anche la sensazione di guida. inizio. Poi abbiamo anche il manubrio, il manubrio in questo in alluminio presupposto con gli semi manubri, abbiamo un look che si assomiglia sempre di più ad una moto e non un scooter, abbiamo i comandi separati, abbiamo addirittura le paralleleve con le luci di direzione progressive e integrate nel pezzo, questo gli conferisce indubbiamente un look più sportivo e esclusivo. In la handlebar abbiamo clip-on style bars con le luci di controllo indipendenti, le guardie anche una delle principali quali in cui ha le luci di fronte con il luci di live, anche in superiore di alumina. E ovviamente questo ha dato un auspettivo sportivo e un'exclusiva. Poi possiamo parlare dei serbatoi, anche questo centrale, ma anche montato sotto le pedane un po' già piede, questo assicura una giusta distribuzione dei pesi, ma allo stesso tempo anche un basso centro di gravità. In il full tank abbiamo 7 litri di capacità, anche in questo design siamo riusciti ad arrivare a 7 litri di capacità che è importante. In il full tank abbiamo 7 litri di capacità, che è in un'unità, ed è montato sotto la plattata di footrest, che inserisci una propria distribuzione ma anche un'unità di concentrazione di gravità. Ok, ovviamente il motore. Abbiamo due differenti, 125 e 200 full injection post-strokes, double overhead camshaft, per il 125 abbiamo 15 hp, quindi questo è il massimo per questa categoria, e 20 per il 200. Per il motore abbiamo due motorizzazioni, 125 e 200, 4 tempi in azione elettronica, 4 valvole, doppio valvole a cam in test, risultando in 15 cavalli per il 125, così il massimo consentito per la sua categoria, e poi 20 cavalli per il 200. Le ruote, come i primi Drax, con questo qua abbiamo due ruote di diametri diversi, davanti abbiamo 12 pollici, indietro 13, in montano pneumatici Pirelli e l'impianto frenante Prembo, anche questo è molto importante. Come i primi Drax, questo nuovo Drax has due ruote di diametri, in fronte abbiamo 12", in fronte abbiamo 13", montano Pirelli e il sistema Prembo. e quindi abbiamo un sistema di ruote di ammettere, quindi abbiamo un sistema di ruote di ammettere, e quindi penso che sia tutto, con queste funzioni siamo molto sicuri, che abbiamo due diverse, da tutti i quali possiamo trovare, di tutto questo tipo di scooter, di questo tipo di vehicolo. Ora passiamo a San Capo Helmi, Grazie a tutti, Giorgio. Questi sono i cittadini. Ok ragazzi, ora voglio introdurare a voi il mio cliente dell'export manager, Sandro Capparelli, che dirà qualcosa di distribuzione all'interno del mondo. Sandro, per favore. Buonasera e buona mattina. So, just to speak about sales of a Dragster. Dragster will be made in Italy, assembled in a new plant near Bologna. We will start with this new plant at the beginning of next year and the first production date will be starting from the second quarter of next year. Quindi il Dragster sarà fabbricato in Italia in una fabbrica che stiamo preparando che inaugureremo inizio all'anno prossimo vicino Bologna, vicino alle sede storiche di Tangent, e la produzione comincerà nel secondo trimestre del 2020. Dove venderemo il Dragster? Il Dragster sarà venduto in tutto il mondo. In Italia sarà venduto a una cinquantina di concessionari selezionati. In Europa i mercati principali che saranno Germania, Inghilterra, Olanda e anche altri mercati come Spagna e Francia saranno importanti, ma la grande domanda per il momento è da Germania e Inghilterra. Quindi dove venderemo questa superbike? Ovviamente in Italia, con 50 dollari che abbiamo scelto ora, ma anche in Europa con importanti mercati come Germania, UK, Benelux, Spagna e Francia. e un grande, grande mercato e una grande domanda che viene anche dal sud-est dell'Asia significa Vietnam, Thailand, Indonesia, Malaysia, Giappone, Filippine quindi molti mercati saranno anche del sud-est asiatico che sta richiedendo molti molti volumi quindi Filippine, Thailandia, Malaysia, Giappone, Indonesia e altri mercati. Quale sarà il prezzo del Dragster? Abbiamo avuto un prezzo di lanciato perché abbiamo detto che per questo tipo di superbike il prezzo di superbike è molto alto perché il prezzo del prezzo è circa 5,000 euro per il 125 euro e 5,500 euro per il 200 cc quindi il prezzo sarà in Europa suggerito sarà tra i 4.900 e i 5.000 euro per il 125 e tra i 5.400 e i 5.500 euro per il 200. quando sono arrivato in Italjet pochi mesi fa ho riscontrato un fenomeno molto molto strano che nella mia purtroppo lunga esperienza delle moto non avevo mai avuto l'interesse enorme da parte dei clienti finali da un anno a questa parte sul Dragster e quindi spinti da questo interesse ogni giorno richieste, ogni giorno chiamate, ogni giorno visite su internet con richieste, richieste su Facebook, Instagram eccetera abbiamo lanciato una preordine del Dragster che è partito oggi a mezzogiorno e abbiamo già per 499 unità limitate queste 499 unità saranno identificate da una speciale targhetta e il proprietario avrà un certificato di proprietà di quel specifico Dragster e il preordine è partito subito molto forte perché abbiamo già raccolto in meno di un'ora più di 100 ordini e quindi penseremo che in una settimana la quantità della first edition sarà esaurita abbiamo avuto una grande demanda di Dragster che abbiamo deciso di lanciare una firma preordine inizia da ora, da 5 ore fa e abbiamo avuto un grande successo perché già 100 unità sono stati soldati e questo è limitato a una first edition è limitato a 499 unità queste unità hanno una speciale plate un'identificazione plate con un numero e un certificato di proprietà per l'Italjet e queste ordini sono arrivati da tutto questo è tutto per ora grazie 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 ok voglio dedicare questa nuova Dragster iniziale edizione a mio padre che ci ha lasciato 3 anni fa e grazie a tutti i fan di Dragster che vivono per essere Dragster in nuovo nel mercato perché non ho mai visto una passione di Dragster come ho visto durante la prima volta dopo la introduzione di Dragster abbiamo ricevuto tantissime tantissime e-mails e richieste da tutte le persone da tutto il mondo e voglio dire un grande ringrazio ai clienti che in questo momento sono in cima del preordine e alle persone che vivono per la tecnologia per la pazienza e per l'emozione per la motocicola perché la motocicola non è solo due ruote che vengono per la ruota ma anche per la pazienza quando saranno a Dragster saranno orgogli per guidare un concentrato di tecnologia e di design siamo molto orgogliosi di dare Dragster un stile italiano di design mi e la mia staff lavorano molto caramente in tutto i dettagli e non ci interessavamo se questo modificio questo parte era più caro ma lavoravamo per la faccia in nostro DNA siamo motocicoli e in nostro cliente siamo gasolina quindi per noi è molto importante dare un'emozione per i nostri clienti e credo che Italjet era potente dare un'emozione per i nostri clienti questo è il risultato di tutti le persone che scrivono ogni giorno che vogliono venire al mercato vogliono scrivere a mio Dragster ora sono orgogli di presentare un'unico che ho conosciuto nel social network che è il miglior fan di Dragster che ha spavuto tutto il suo tempo per promuvere Italjet in il mondo è venuto da l'unico è stata una passione vera per i fan, che ho avuto un piacere e è stato un piacere parte del processo di ottenere il marchio. Grazie per questo e per il resto dell'Italjet. Grazie. Ok, Bobby, grazie per la tua passione per l'Italjet. Ok, io ringrazio tutti di essere stati presenti a questa conferenza in Italjet. Direi che ci diamo appuntamento in pista. Abbiamo già fatto i primi test rider a Imola, nel circuito di Imola. E organizzeremo presto un incontro con tutti i giornalisti per provare il nuovo Dragster. Quindi grazie a tutti per essere qui oggi. e vogliamo invitarli tutti in Imola, molto presto, per provare il final Dragster in circuito. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E voglio dire un grande, grande, grande ringrazio. Perché sono molto orgoglioso di essere qui e di avere Dragster in markete molto pronto. Grazie a tutti. Grazie a tutti